She can be catching all night long Corso Grosseto 18 a Torino, avete riconosciuto l'indirizzo? Penso proprio di sì, ci troviamo presso la concessionaria Queen Car dove da sempre l'obiettivo è quello di farvi risparmiare sull'acquisto della vostra auto ma perché passare da Queen Car proprio questo mese? Ve lo dico io è il mese delle chilometri zero e ci sono sconti fino al 50% e non solo, continua la super rottamazione e tanto altro in compagnia di Fabrizio Massimiliano, ciao ben trovato Ciao a tutti ben ritrovati, puntata straordinaria perché abbiamo più di 9.000 euro di incentivo di sconto rottamazione sconti fino al 50% ma grandissima novità, il primo mini SUV Casa Mahindra a partire da 10.950 euro venite a scoprire la nuova QV100 E sì, Queen Car è la concessionaria delle grandi novità, non solo, la concessionaria del risparmio e acquistare questo mese non è mai stato così facile, così come sono facili le soluzioni di pagamento perché solo da Queen Car, amici, ritirate l'auto oggi e la pagate poi con piccolissime rate mensili a partire da 80 euro tutto incluso, ciao Massimiliano Ciao a tutti, ben ritrovati, vi ricordiamo, finanziamenti zero anticipo, addirittura la prima rata dopo le vacanze con l'assicurazione, furti, incendio già inclusi, addirittura possiamo mettere la manutenzione e la rata a partire da 80 euro al mese, sì, 80 euro al mese E allora non perdiamo altro tempo amici, per voi le super occasioni, firmate Queen Car, state con noi Nuova Sayong Tivoli 1.6 benzina, benzina GPL, turbodiesel, attenzione al prezzo, può essere vostra a partire da 12.900 euro, rate da 129 euro al mese, 5 anni garanzia, 5 anni furto incendio, 5 anni casco gomme e poi sei libero di restituirci l'autovettura Nuova Sayong Tivoli 1.6 turbodiesel, 115 cavalli, 3,6 litri per 100 chilometri a chilometro zero versione full opsona, attenzione al prezzo, 15.900 euro Circolate sempre, esenzione bollo per 5 anni, parliamo del nuovo Corando 2.000 benzina, benzina GPL, cerchi in lega, full opsona, retrocamera, attenzione al prezzo, 18.900 euro 1.240 litri vanno bagagliaio, parliamo della nuova Sayong XLV, ideale per le vacanze, con sconti fino al 30% La nuova XLV può essere vostra a partire da 15.900 euro 100% soddisfatti o rimborsati? Sì, perché Sayong, se l'autovettura vi crea problemi entro i 30 giorni vi rimborsa il costo totale della fattura Il nuovo Sayong Rodius 2002 turbodiesel, 7 posti, 4 ruote motrici, cambio automatico attenzione al prezzo, 25.900 euro, il prezzo più basso d'Italia Da Queen Car l'autovettura la puoi venire a provare su strada, anche per un giorno Sì, perché Queen Car vi dà la prova del nuovo Sayong Rexon per un giorno a partire da 27.900 euro 25 chilometri con litro di benzina, attenzione al prezzo, 7.450 euro Parliamo di un'autovettura nuova, la nuova Mitsubishi Space Star, benzina, benzina GPL 7.450 euro, con rate a partire da 89 euro al mese 5 anni furto incendio, 5 anni garanzia, solo da Queen Car trovi la Mitsubishi Space Star, 7.450 euro Tutta la gamma Mitsubishi SX, benzina, benzina GPL, turbodiesel, attenzione al prezzo 6.500 euro di sconto, solo da Queen Car, a partire da 14.450 euro 9.000 euro di sconto a rottamazione, parliamo degli ultimi due pezzi La Mitsubishi Turbo Diesel SX, in sport, da 29.000 euro Solo da Queen Car lo trovi a 20.900 euro Autovettura appena uscita, presentiamo la nuova Mitsubishi Eclipse 1.5, turbo, benzina da 163 cavalli Attenzione al prezzo, a chilometro zero, sì, da Queen Car lo trovi già a chilometro zero Con sconti fino al 25% Da Queen Car trovi anche la nuova Maindra QV100, il mini SUV Maindra, a partire da 10.950 euro Passiamo in casa Toyota, Toyota Ego, 1.000 benzina, full ops, 8.900 euro Toyota Yaris, 1.000, a chilometro zero, 9.900 euro Suzuki Ignis, 1.2 benzina, 2 ruote motrici o 4 ruote motrici a partire da 11.9 Lancia Y1.2 GPL, da 10.900 euro Hyundai 10, 1.000 benzina, 8.900 euro a chilometro zero Hyundai Tucson, 1.6 benzina, 6.000 euro di risparmio a 17.900 euro 7.000 euro di risparmio, Kia Sportage, 1.6 benzina a 17.9 Disponibili diverse pande, 1.2 benzina a partire da 7.800 euro a chilometro zero Ebbene amici, le auto sono a vostra disposizione qui da Queen Car e ce ne sono oltre 400 Risparmio garantito, le auto sono qui per essere ammirate Provate su strada e portate a casa il miglior prezzo di mercato Sì, perché abbiamo tantissimi chilometri zeri con sconti fino al 50% Abbiamo anche il servizio di assistenza per questo mese, il tagliando è scontato del 22% E inoltre ricordo anche che qui Car apre il nuovo servizio di carrozzeria Non solo risparmio sull'acquisto della vostra prossima auto, anche risparmio sull'assistenza E super vantaggiosissime soluzioni di pagamento solo da Queen Car Ritirate oggi, pagate poi Cosa aspettate? Venite qui, comprate la vostra autovettura, andate in vacanze Iniziate a pagare addirittura a settembre con 80 euro al mese Risparmio certo, risparmio garantito Allora vi invito personalmente a passare da Queen Car in Corso Grosseto 18 a Torino Per risparmiare sull'acquisto della vostra prossima autovettura Grazie Fabrizio Massimiliano e grazie a voi per averci seguito